Era ancora una cosa che voleva fare, prendere dei tronchi, facciamo il vostro passo da volante e portarli inserciuto per iniziare a impiare, per far vedere da te che vengono i raffini, i raffini è estremamente importante, ve lo faccio camminare bene a te, ma a te mi ha detto da vedere sulla strada no no, è molto meglio